Mister Crivello, una partita che ha visto all'inizio del secondo tempo, trionfante la Mazzarese con un buon gioco anche da parte dello Sciacca che poi si è visto ripagato per un errore della Mazzarese, si è visto anche ripagato nel pareggio? Ma guarda, è una partita un po' dai due volte, abbiamo fatto la prima frazione di gioco, una partita dove ci sono state le occasioni da una parte e dall'altra, non concretizzate, nel secondo tempo la Mazzarese ha trovato un gol nei primi minuti, però devo dire che il pareggio è la cosa più giusta a mio avviso, se consideriamo che noi abbiamo sbagliato tre palle gol davanti la porta e la Mazzarese ha preso due pali che potevano essere anche dai gol, quindi partita combattuta da entrambe le parti, bella, molto reattiva da entrambe le parti, noi abbiamo avuto chiaramente un calo dopo che abbiamo subito il gol, però con i cambi, con gli innessi che abbiamo messo in campo ci siamo risollevati con forze fresche e abbiamo raggiunto il pareggio.